Bella ragazzi, qua è Ghiotto, buon giovedì a tutti, come state ragazzi? Tre giorni, eh, tre giorni e sarò a San Siro, Milan-Lazio, non vedo l'ora, prima partita allo stadio di quest'anno, speriamo sia la prima di una lunga serie, perché quest'anno ho in progetto di andare a vedere almeno due o tre nuovi stadi in cui non sono mai stato. A San Siro già ci sono andato, 2018, vi ricordate Inter-Lazio, era vabbè dicembre 2017, ma avevo già il canale YouTube, e uno dei primi video in cui parlo di calcio, appunto, su YouTube, Milan-Lazio non l'ho mai vista, andrò con un mio amico milanista, usciranno dei video, però mi raccomando, seguitemi su Instagram, primo link in descrizione, perché almeno non vi perdete nulla dei contenuti che usciranno poi quando sarò a San Siro. Prima di tutto, ragazzi, sempre in descrizione, trovate 6 calcio, ok? Mi sono arrivate diverse nuove maglie della stagione in corso, quindi maglie nuove di pacca, e signori, l'Ipsia, ho preso la maglia dell'Ipsia, se ce la faccio ad aprirla, ce l'ho fatta, è incredibile, ecco qua. Red Bull Lipsia l'ho presa perché è veramente una maglia esteticamente, secondo me, molto bella, ok? Qua il distintivo della Bundesliga, ricordo, maglia prezzi modici, 6 calcio, c'è il mio codice sconto 99, trovate anche i pataloncini, le calze, e c'è una nuova offerta aggiornata, la trovate scritta in descrizione, per ricevere anche maglie in omaggio. Io, ragazzi, ve la faccio vedere anche un pochino nei dettagli, ma io non so, ditemi la vostra, ma secondo me sta qua una maglia esteticamente che da uscire al sabato sera, c'è una maglia, il simbolo della Red Bull, proprio bella, 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 poi anche il tessuto, ragazzi, pazzesco. Quindi, mi raccomando, visitate il sito. Signori, veniamo a parlare un attimino di Milan-Lazio, poi voglio fare un attimo un discorso su queste soste nazionali che, ragazzi, ammazzano YouTube Calcio. Brevemente, allora, Milan-Lazio, probabili informazioni, poi ci sarà tempo di parlarne meglio, magari questa sera. Milan con il 4-2-3-1, Mainian, che ce l'ho al Fanta, ma speriamo subisca più gol possibili. Calabria, Tomori, Kier e Teo Hernandez, difesa 4, confermatissima. Chessi Benassel, quindi tornano il duo di centrocampo, la diga del Milan, Salemacher, Brian Dienas, Leao, e dovrebbe giocare Zlatan e Ibrahimovic. Dovrebbe, perché c'è il uso del condizionale, rientra comunque da un infortunio lungo, e tanto che non gioca, sicuramente una mezz'oretta la farà. Probabilmente potrebbe anche giocare Rebic e Zlatan entrare dalla panchina. E sarà comunque pericoloso, perché poi se giocherà titolare, Pioli sa già che dopo un'oretta lo dovrà togliere. Quindi attenzione che dovesse giocare Rebic, chi entra poi Ibra, quando noi saremo teoricamente più stanchi, può essere decisivo. Noi, confermatissimo, 4-3 di Sarri, Reina in porta, Marusic, che ha segnato in nazionale, Luis Felipe, Acerbi, Isai, che ieri sera ha segnato, quindi i nostri terzini sono in grande spolvero, Milingo Vissalic, Luca Sleva, Luis Alberto, Pedro, quindi confermatissimo, perché sta facendo molto bene, ha impattato benissimo, Immobile e Felipe Anders. Su Immobile, ragazzi, ha avuto questo affaticamente nazionale, che poi diciamocela tutta. C'è Insigne che lascia il ritiro, sì, va bene, il padre aveva l'intervento, Pellegrini, sicuramente magari un problemino l'hanno avuto tutti. Però, è ovvio, ieri sera si giocava contro nessuno, con tutto il rispetto della Lituania, anche se poi era una partita da vincere ai fini del girone. Quindi, ovviamente, ci può stare che i giocatori siano rientrati prima. Poi, sicuramente, non sono così inventate totalmente, però io sono convinto che, se ieri sera avessimo giocato una partita importante, giocatori, magari come Insigne, Immobile, eccetera, sarebbero almeno rimasti in panchina. Dare un segnale al gruppo, io ci sono. Ok, ieri si giocava contro nessuno, si è vinto. Non ho visto la partita, perché ieri sera sono andato a mangiare sushi, ho visto gli ultimi 20 minuti al bar, ma la partita ormai era scritta. Ovviamente, adesso sono venuti fuori, quelli, vedi, senza Immobile si gioca meglio, e non posso dargli torto sotto certi punti di vista. È ovvio che non puoi dirlo in una partita come ieri, che giocavi contro nessuno. Poi, su Raspadori, apriamo una parentesi. Io, ve ne ho parlato già da mesi, un grande giocatore, può essere un po' limitato nella sua carriera per caratteristiche fisiche, perché con Raspadori puoi giocare solo in un modo, facendo i cross. Cioè, scusate, palla a terra, se tu fai i cross, povero Raspadori, non ne prende uno, ma per caratteristiche fisiche, ok? Però è un giocatore che usa entrambi i piedi, destro, sinistro, è giovane, può ancora comunque anche fisicamente rinforzarsi, però è un giocatore completo, anche tecnicamente superiore a Scamacca, che ha poi caratteristiche fisiche più importanti. Per quanto riguarda Immobile, io, il discorso, il concetto generale già ve l'ho fatto, non si può andare a criticare il valore del giocatore, si può criticare le prestazioni che fai Nazionale, anzi, devono, perché bisogna essere obiettivi realisti, anche se io sono Laziale, Immobile e Nazionale non rende, c'è poco da dire, è lontano parente di quello della Lazio. Non saranno tutte colpe sue, però molte responsabilità sono sue, ok? Bisogna anche un po' responsabilizzare i giocatori, e ripeto, non sono meno Laziale, non sono... se, appunto, vi dico la verità e vi dico che Immobile e Nazionale, ragazzi, sembra il fratello scemo di quello che è la Lazio, ok? Perché poi è partito benissimo, giocando nel 4-3-3 di Sarri, nel 4-3-3 di Mancini, evidentemente, fa molta più fatica. Ma l'argomento clou del video è queste soste nazionali. Cioè, ragazzi, io in queste due settimane, al di là che mi sono anche io preso un attimo una piccola pausa, anche se, vabbè, video ne sono usciti quasi tutti i giorni, ma di cosa parliamo, signori? Il problema è questo, perché in queste due settimane, anche se io vi porto un video particolare, studiato sulla Lazio, non ve lo vedete, o comunque ve lo vedete meno rispetto se io ve lo porto la prossima settimana. E vi spoilerò già che io, in queste settimane, ho preparato il video guida sul girone di Europa League. C'è un video specifico in cui analizzo Lokomotik, Galatasaray, Marsiglia, analizzo il girone, le cose positive, le cose negative, però non ve lo faccio uscire ora, ve lo farò uscire martedì prossimo, magari, in cui ci sarà l'hype per l'esordio di Europa League, è chiaro. Quindi queste due settimane, io sì, mi posso preparare i video, mi posso portare avanti, ma non ve li faccio uscire adesso. Quindi cosa parliamo? Della nazionale con la Lituania, che non ve ne frega niente neanche a voi? Io la nazionale attifo tanto, però queste partite qua, ragazzi, cioè, lasciano il tempo che trovano, sono state anche, comunque, noiose con Bulgaria e Svizzera, e ieri, vabbè, 5-0 contro nessuno, ok? E ho visto solo delle grandi polemiche, appunto, su Immobile, un po' da parte di tutti, che poi si sono sfociati in insulti, che quello non va mai bene, vanno sempre condannati. Però queste delle nazionali, ragazzi, boh, dal punto di vista YouTube, proprio per noi ci danneggiano tantissimo. Anche voi, vedo che vi ammosciate un po', farei una riforma, cambierei qualcosa, cioè, io non lo so, adesso poi a ottobre ce ne sarà un'altra, mi pare, non va bene, ragazzi, cioè, te hai iniziato il campionato due giornate, lo stoppi, poi i giocatori giocano tre partite in una settimana e magari poi si infortunano e tutto, lasciamo perdere il caso dei giocatori in Sud America, che è un casino totale, cioè, bisogna organizzarsi meglio, non è possibile, in più ancora col virus, quindi nella situazione che stiamo vivendo adesso. Io, ripeto, secondo me anche per Mancini sarebbe meglio lavorare in un periodo più lungo, ma non spezzettato così, quindi non una settimana oggi, una settimana ottobre, una settimana novembre. Fare un periodo che stoppi il campionato, fai un mese e fai nazionali. Almeno la squadra viene ben forgiata, è chiaro, e poi a giugno, eventualmente, se c'è l'Europeo e il Mondiale di nuovo, o anche se non c'è l'Europeo e il Mondiale, magari di nuovo fai tre settimane, un mese di nazionali. Mancini, in una settimana in cui giochi tre partite, cosa vuoi che alleni? Devi preparare le partite, devi poi fare defaticamento e tutto, quindi non è che puoi inventarti chissà cosa. Anche per lui sarebbe più funzionale lavorare un mese sull'Italia, sulla nazionale, è chiaro. Io poi, ripeto, non sono uno di quelli che quando c'è la sosta, che palle, che schifo. No, le partite le guardo, la nazionale mi piace, non è che la seguo solo l'Europeo e il Mondiale, la nazionale, perché vedete che poi, se non ci impegniamo nei gironi, usciamo, come è successo con la Svezia, e anche adesso, attenzione, perché abbiamo due partite in più e la Svizzera vincendo è a pari punti, quindi attenzione, poi c'è lo sconto di re. È ovvio, sì, i mondiali e gli europei sono sicuramente più entusiasmanti, su quello non c'è dubbio. Però, ripeto, tutte queste soste, secondo me, non sono funzionali, né per noi, parlo per me che faccio lo youtuber, né per voi, perché so che il 90% non è contento, e soprattutto per i CT. È chiaro, perché in una settimana in cui giochi tre partite, non hai tempo di allenare, di provare nuovi schemi, è già tanto se riesce a fare delle prestazioni discrete, infatti abbiamo visto una nazionale un po' in difficoltà, anche perché poi tanti giocatori non sono ancora in forma fisicamente, essendo il campionato iniziato 20 giorni fa, praticamente. Comunque, niente, adesso si ricomincia, speriamo anche con i video di tornare a fare anche più visualizzazioni e tutto. Non fermate le iscrizioni, mi raccomando, cliccate il bottone rosso, iscriviti, attivate la campanella, seguitemi su Instagram, e poi trovate 6 calci in descrizione, mi raccomando, ragazzi, io ve la faccio rivedere perché è uno spettacolo. Cioè, io esteticamente questa maglia è veramente una delle migliori che ho. Vi piace a voi? Fatemelo sapere. Signori, bella.